Lucio D'Arla mi ha chiesto diverso tempo fa di partecipare a questo spettacolo e ci eravamo conosciuti recitando assieme in un piccolo film di Mimmo Paladino, piccolo per dimensioni, e da quell'esperienza poi Lucio mi ha chiesto di partecipare a questo lavoro perché evidentemente cercava un cantante che fosse soprattutto interprete, infatti io devo a lui in questa occasione il mio debutto come attore di prosa. Difficoltà certo che ne ho trovate, oggettivamente, anche se poi la regia di D'Arla è una regia molto lieve nel senso migliore della parola, cioè lui mette chimicamente all'affronto le nature dei vari interpreti in maniera funzionale verso la storia, verso la messa in scena, quindi mi ha dato anche la possibilità di investire molto in termini di istinto. Un'occhiata a registro della banda, Giacomo il borseggiatore. Il mio personaggio, il personaggio di Speia, per altri famoso per lo più come Pitchum nell'opera da tre soldi che è derivata appunto dalla Bergassopera, è un laido, un viscido a tratti però simpatico, è un carattere sicuramente universale, sicuramente attualissimo, anche se poi viene troppo facile trovare delle attualità. A me piace pensare all'atmosfera originaria di quest'opera che nel settecento fu scritta per prendere in giro l'opera italiana che era fatta di ninfe, di ambienti bucolici e invece in quest'opera irrompeva la plebbe, la volgarità, la trivialità anche nel modo più ironico e comico possibile e quindi questa carica qua che secondo me l'uso dall'appreservato fa già di per sé quest'opera come un fatto irriverente e divertente. Fai il ruolo vostro! Dal bacio in pisco che il tuo gin è ottimo! Ma Dalla non si può dire di no innanzitutto perché è un grande artista quindi a contatto con il quale evidentemente non c'è da imparare qualcosa e questo viene anche facile di dirlo e non si può dire di no perché ti coinvolge nel suo lavoro con uno spirito molto giocoso che io ammiro perché anche il nostro mestiere come tanti altri alle volte si carica di pesantezze, di presunzioni, ci si prende forse un po' troppo sul serio anche se non bisogna esagerare nel senso opposto. Però ripeto, trovo che questo modo di lavorare di Lucio sia molto interessante soprattutto per il temperamento che lui mette in questo modo di lavorare che secondo me preserva la salute e l'intelligenza delle persone. Per me che vengo da un canto per nulla disciplinato, anzi totalmente istintivo, frequentare le voci così belle è stata un'occasione di grande curiosità, di grande interesse, di grande fascino soprattutto perché poi la voce è in teatro che è un grande patrimonio della nostra cultura e resta un fatto di un mistero e di un fascino bellissimo.